E' incredibile vedere come un marchio così importante, storico e ricco di passione come Moto Guzzi, ha saputo oggi reinventarsi e rinnovarsi unendo innovazione tecnologica e passione, regalando emozioni uniche per il motociclista giovane e per quello più esperto. Sono al Fast Endurance dopo aver ricevuto l'invito da parte di Domitilla e Ufficine Vivalli. Vado in moto da quando ho 17 anni e ho iniziato in strada. La prima moto è un'Aprile RS 125, due tempi. Il Fast Endurance è una competizione dove le parole chiave sono passione, amicizia, stare insieme e divertimento. Nel trofeo mancavano delle figure femminili. Ci hanno dato questa possibilità di essere, diciamo, le rappresentanti femminili all'interno di questo Endurance. La colonna salona giusta per le moto e rimane solo il Rock'n'Roll. Sono contento che mi avete portato un mezzo che mi ha fatto rinascere perché è stato il mio primo mezzo, l'avevo fatto di questo colore. Sono legato, un po' come una prima fidanzata, non te la puoi dimenticare. Il Ciao. Tuttora devo dire che l'ho provato, rimane un mezzo che era avantissimo. Adesso usano tutti sti c***o di monopattini che li spaccherei tutti, guarda. Usate questo. Anzi, Piaggio, rifai il Ciao. Riproducete il Ciao. E il Ciao non lo lasci qua. Ah no. Per me se lo rifanno lo vendono. Però che cassa, ragazzi! Che scarico! Anche quest'anno, nel 2020, ci siamo riconfermati i fornitori ufficiali del Moto Guzzi Fast Endurance. Abbiamo accolto questo invito. Ci siamo sentiti parte di una famiglia dove abbiamo tanti amici ormai e dove siamo stati bene. Mi sono divertito ad accettare la sfida di Gianfranco e Vittoriano, a competere non solo nella Fast Endurance, ma iscriverci anche alla Gentleman's Cup con l'incredibile ottovalvole GC Corse, preparata appunto dai fratelli Guarenschi. Insieme anche alla partecipazione di Zard, della nostra azienda. Gianfranco, non ha raggiunto nessuno, un bel applauso! Il mondo è il mio, c'è il basso, non è vero, c***o! Abbiamo portato in pista 5 GC Corse oggi, una ha vinto il campionato italiano, dunque meglio di così non si poteva fare. Il GC Corse ha costruito il kit di trasformazione per il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Da lì abbiamo pensato di continuare costruendo delle parti speciali anche per il resto della gamma Moto Guzzi. Special parts che riguarda un po' tutta la gamma, anche quello che è stato. L'anno prossimo è un anno importante, 100 anni dalla nascita della Moto Guzzi. E noi vogliamo essere protagonisti con il nostro progetto e con la nostra passione. E per riportare questo marchio Moto Guzzi, anche con il nostro supporto a livello che era e che è sempre stato Moto Guzzi. Stiamo pensando dei nuovi prodotti, dei nuovi scarichi, dei nuovi componenti che contribuiranno a rendere ancora più uniche ed esclusive queste fantastiche Moto Guzzi. Seguitici! Grazie! 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 Grazie!